Ciao, sempre qui dallo Tomboli, guardate dove sono. Mi vedete? Mi vedete? Mi vedete? Mi vedete? Mi vedete? Bene. Mi avete visto? Ora andremo avanti e vediamo tutto il resto che è veramente uno spettacolo. Ci sono dei segni giganteschi, guardate questa, con dei Gioza enormi. Gioza! Poi di plastici sui vari pranzi di qua, tipo qui c'è adesso, sushi, non manca niente qua. Perciò anche queste cose, sono molto buone, sono molto buone. Questa cosa è una sala Giochi. E questo, questo locale ha un po' lì, un po' lì, un po' lì, un po' lì. Bellissimo, questa cosa è una sala Giochi. È veramente pieno, pieno di cose da vedere, c'è anche una sala Giochi. Un po' lì, 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 un po' lì. Bellissimo. Ora spettolo due e andiamo avanti. È un po' lì. Stupendo, non so nemmeno io cosa dire da quanto è bello. No, non mi mettoni. No, non mi mettoni. Filippo, facciamo una foto. Ciao, ne. Bravo, sei bravo. Va bene, guardate che bello. Allora, interrompo di nuovo il video e ne faccio un'altra parte. Altrimenti viene anche a questo troppo lungo e così vi faccio vedere poco per volta tutta quanta la zona. Ci vediamo dopo. Ciao!